Ben ritrovati amici del centro medio italiano. Una volta che si saranno esauriti gli effetti del ciclone che ancora sta portando maltempo soprattutto al sud Italia, la nostra penisola dovrà fare i conti con l'arrivo di nuove correnti fredde e foriere di qualche pioggia, soprattutto nella seconda parte del weekend. Vediamo quindi in dettaglio quali sono le previsioni sull'Italia per dopodomani, domenica 19 novembre. La stabilità sarà il tratto distintivo del meteo al mattino, anche se non si escludono locali nevicate sui settori di confine delle Alpi orientali oltre 700 metri, come anche isolati acquazzoni sullo stretto. Al pomeriggio situazione simile con locali fenomeni tra Sicilia, Calabria e Alto Adice, dove sulle Alpi la neve cadrà fino a 800 metri. Il tempo tenderà a peggiorare in serata, con rovesci sparsi ad iniziare dal medio-basso adriatico, accompagnati a locali nevicate in appennino oltre i 1300-1400 metri. In nottata le precipitazioni si estenderanno anche a Basilicata, Calabria e Sicilia, sempre con acquazioni sparsi e neve in montagna. Attenzione poi sulle pianure settentrionali, dove è attesa la formazione di nebbio e foschie soprattutto dalla sera. Concludendo con le temperature, queste sono previste in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, grazie all'arrivo appunto di aria più fredda. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti, sia visitando il nostro sito, sia scaricando la nostra gratuita meteo, dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre città. Buon weekend da parte del Centro Meteo Italiano!